ehi la ciuma io sono mazzatess e benvenuti in questo episodio di main test ita dallo scorso episodio sono passati davvero pochi giorni quindi non ho fatto enormi progressi a riguardo ho cotto un po di cobblestone l'ho trasformato in stone a la gui qua l'ho fatta più grande perché altrimenti si leggeva davvero poco visto anche nei video quindi l'ho ingrandita andiamo a dormire e sto pensando che visto che vogliamo fare le lampade di colore verde sotto avremo bisogno di parecchio colore verde per quelle grigie avremo bisogno di del grigio che si fa con bianco e nero il bianco si fa col carbone con il fiore esatto e il nero invece si fa col carbone di quello ci sarà da arvestare un po di di fiorellini bianchi o che bellini i fiorellini arancioni mentre invece per il verde sarà un pochettino più complesso nel senso che avremo bisogno di un sacco un sacco un sacco di io spero che mi tengo caricato anche caricate anche questi chunk così si possono sviluppare i fiorellini perché servono e serve il servono i cactus sto pensando che non abbiamo una farm automatica allora volevo fare una farm automatica di cactus sulla falsa riga di quella la proprio alla fine ho pensato ma qua abbiamo un sacco di canne da zucchero cioè abbiamo già 99 e 52 se adesso poi teniamo il chunk caricato ci farà un sacco di canne da zucchero no più di quante ne abbiamo perché non le rompe più ok però questa non funziona perché allora funziona è questa non rompe perché non rompe che cosa strane che succedono quella è la rotta questa non la rompe ma neanche quella perché non la rompe ah perché no rimangono fissi perché rimangono fissi spegnetevi oh stanno andando da solo e adesso lì ragazzi non hanno un segnale sotto a meno che non prendano quello di là facciamo una cosa che risolve il tutto va facciamo che fare così come dovevamo fare già dall'inizio no ok ok ma funziona forse ci sono dei problemi di cioè nel senso si ostacolavano tra di loro le le blinky plant non lo so c'era comunque qualcosa che chiaramente non andava oddio mi sono spaventato con la canna che passava ok perfetto comunque stavo dicendo che qua abbiamo un sacco di canne da zucchero quindi possiamo di sicuro mettere una fila di cactus qua è una fila di canne da zucchero allora andiamo a raccogliere un po' di cactus così che qua possiamo fare una farm di cactus e ottenere per quello i cactus che ci servono per fare le luci verdi diciamo allora qua di quanto ne avremo bisogno 1,2,3,4,5 prendiamone un po' di più per vedere il funzionamento se rompe 3,4,5,6,7,8 10,1,12 se andiamo così dovrebbero bastarci allora ah no però ho bisogno della sabbia perché vanno collocati oh si collocano anche qua no si collocano anche qua ma non so se crescono non so non so allora prendiamo 2,3 4,5 prendiamo questi così pensiamo un attimo a questo problema una cosa alla volta anche perché questa era una cosa che avremmo comunque dovuto fare prima o poi avremmo dovuto assolutamente fare allora io le metterei da questo lato qua quindi 1,2,3,4,5 via ehi ok e vediamo un attimo qua dovrebbero crescere ma non ne sono sicuro adesso vediamo se li tagliano ok anche questo è lo stesso problema di là questi stupidi tubi è così buon sì mi sembra una discreta farm se adesso questo continua a crescere con il il chunk caricato è un'ottima cosa ottima 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 mettiamo i fiorellini qua e andiamo giù sotto a lavorare andiamo 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 a lavorare però l'ha fatto troppo grosso forse sta guia fin troppo grosso no questa non è nelle piante questa va qua con le blinky plant allora ho bisogno di cosa torce no aspetta facciamo opzio no exit menu dobbiamo andare a cambiare la gui la grandezza della gui perché sennò non non si vede niente escaliamola un po' proviamo così andiamo yamme yamme bell ragazzi io ho un sonno che non vi potete neanche immaginare una roba oddio devo farmi un caffè di solito non non sono un un uomo da caffè però sono una donna da caffè no ehm cos'è che volevo dire ehm abbiamo bisogno di questo che ha bisogno di questo che ha bisogno di legno ne abbiamo 41 va bene ferro ci serve e torce prendiamo un altro po' di legno per eventualità vabbè ma poi tanto vabbè più che altro ci serve il ferro prendiamo questo per ora e andiamo giù sotto dove sto andando andiamo giù sotto a continuare il nostro lavoretto visto che ora abbiamo una mezza soluzione diciamo ma questa la devo eliminare via addio per sempre che poi sono anche furvo perché ho utilizzato quello per rompere la quando era sintonizzato su 3x3 ok allora così va bene devo sistemare un po' di robe qua eh ci sono un po' di cose da sistemare perché guardate che robaccia che c'è qua in giro ma per fortuna abbiamo i macchinari e quindi la stone non è così costosa quindi possiamo permetterci pure di sprecarne un po' per riempire qua con la stone perché così è molto più carino diciamo dando un'occhiata oh beh non è minerale che ci serve questo no allora giusto per togliere quello che non serve togliamo qua so stupido forte non volevo fare quello volevo togliere solo il pezzo che c'era in mezzo porca miseria no sapete cosa non ho preso non ho preso il verde di sicuro vabbè per ora facciamo le casettine qua ci metto ancora io qua ci metterei ancora gli stone brick facciamo uno stack di stone brick uno stack di stick uno stack di stone brick cento stone brick che dite? ed ecco qua uno stack di stone brick così ci sta la mettiamo la luce qua però è da rifare anche questo un due tre quattro un due un due un due un allora se noi facciamo così la porta ce l'ha cover deve essere alta tre perché c'ha la luce sopra però abbiamo detto uno e poi la finestrella quindi qua c'è la finestrella che poi parte da finire di pulire l'ha però e qua è un tre per tre dentro quindi uno due tre uno due tre perfetto poi qua ora si che ci sta giusto questo così possiamo fare rapido e indolore e papapero si vede niente tra l'altro non so come mai ma l'audio continua a non funzionare non si sente un cavolo di niente da main test come se volesse scioperare fa lo scioperò dell'audio per un attimo mi è sembrato di stare usando una pala per scavare qua poi ho detto ma che cosa assurda allora io quasi quasi questo lo faccio un po' off camera e noi ci vediamo tra un attimo a tra poco ragazzi rieccoci allora ragazzi c'è da fare un piccolo cambiamento nel programma diciamo perché giù sotto ci metterei una vita e mezza ora come ora ho bisogno di fare alcune cosette tra cui ho aggiunto una world anchor qua perché quella di là anche aumentando il raggio non si può mai ma non riusciva a prendere qua la casa perché rimaneva scaricata perché lasciavo il drill a caricare e non caricava assolutamente niente quindi niente ne ho aggiunto un altro qua sotto ho continuato un po' però ho bisogno di cuocere un sacco di stone ho bisogno di ricaricare gli oggetti per quello posso ancora farmi tanti picconi e portarli qua anche il drill posso portarlo qua se rimane caricato però già che ci siamo e potrebbe tornarci molto utile io direi di guardare come si craftano i geothermal generator visto che potremmo potremmo doverli utilizzare geo no non so che così con th è vero effettivamente abbiamo bisogno di 4 di granito un diamante che non è un problema dei fine copper wire e dei low voltage cable che non sono problemi abbiamo cast iron ingot che è l'iron cotto quindi 8 di iron cotti e brass 2 copper e uno zinc vediamo se abbiamo già del brass no 2 copper ok e uno zinco sorta tutto qua e poi abbiamo bisogno di 8 di ferro diceva no? da cuocere fine copper wire si fanno così sempre se non ne abbiamo già ne abbiamo già no abbiamo questo allora l'alloy furnace qua è meglio che togliamo questo ah è carico per fortuna lo buttiamo un attimo per terra all'alloy furnace è qua 2 di questi e 1 di questo poi abbiamo bisogno di cuocere 8 pezzi di ferro quindi tic tac tic tac questo lo riprendiamo lo mettiamo magari nello zaino in modo che non si perda ah mi sono craftato anche una una cesta d'oro per giù sotto perché era assolutamente indispensabile per storare un po' di oggetti perché altrimenti non se ne cavava un ragno dal buco allora quello è andato quello ce l'abbiamo questi si fanno così ok ricordavo giusto ne servono 2 perfetto devo prendere un diamante questo e 4 di granito 4 di granito dovremmo averceli si infatti allora appoggiamo un attimo questa roba qua 1,2,3,4 di granito e il tizio qua ah no è un diamante ancora un diamante e per sempre ecco qua allora adesso ci servono un po' di cavi vabbè questo lo prendiamo dopo un po' di cavi ce l'abbiamo dei cavi non abbiamo dei cavi come si fanno già lv cable ah sono questi sono questi qua 3 di copper questi qua effettivamente e un supply converter ce l'abbiamo no abbiamo bisogno di un supply converter no switching station si chiama si supply converter è quello per cambiare il tipo di energia dallo voltage ai voltage ok questo è già un po' più complesso abbiamo bisogno di 3 di quelli uno di questi facciamo una cosa ragazzi allora andiamo a sistemare questo innanzitutto con acqua ce ne abbiamo lava non lo so dubito però posso svuotare questo perfetto lava la possiamo trovare là in fondo allora noi svuotiamo il secchiello punto primo punto secondo ci serve andare a prendere la lava che era di qua molto in giù molto in giù ma molto in giù molto in giù molto in giù ma non mi ricordo mai dov'è e allora meglio andare sul sicuro insomma no ho continuato un pochetto sotto ma le energie del del drill finiscono in fretta e anche un piccone finisce in fretta ho scavato ho scavato dieci casette ma non le ho terminate devo ancora mettere degli stone brick avevo anche quasi finito gli stone brick allora ho detto già che ci siamo facciamo che fare un geothermal generator così che vediamo come funziona e come potrebbe tornarci utile dalla sotto potremmo fare un collegamento da dove ci sono le scale tanto le scale non dovrebbero servirci più e e appunto la fare una stanza dell'energia con un po' di di macchinari con un po' di cose utili diciamo non so se faremo un medium voltage potrebbe tornarci utile per riparare i picconi ma non lo so perché richiederebbe una switching station anche perché il il geothermal generator è solo low voltage e quindi comunque richiederebbe un sacco di cioè richiederebbe parecchi geothermal generator per funzionare bene però potremmo effettivamente farne una buona fila una buona fila per terra di geothermal generator in modo che funzionino a bestia e ci diano un sacco di energia per il nostro la nostra base qua sotterranea ok allora ecco qua andiamo a prendere un po' di lava perfetto questa dovrebbe bastarci facciamo che ah qua era l'esperimento che ho fatto dell'ossidiano proprio per il geothermal generator tra l'altro facciamo che andare direttamente tipico cittadina si chiamava se non sbaglio si perfetto allora facciamo vi faccio vedere intanto vedete che ho scavato ho allargato qua però sono ancora solo 5 case da un lato e 5 case dall'altro ho bisogno di fare questo ancora per 6 volte no 5 volte oltre a questo in base al numero di iscritti che ora siamo però naturalmente non ho un piccone funzionante ora ho bisogno di prendere il drill ah no il drill ce l'avevo con me porca paletta vabbè lasciamo questo caricare intanto che è meglio allora poi tanto dovremo craftarce ne altre probabilmente forse ci conviene craftare un sacco di piccoli piuttosto che andare a ripararle ogni volta drill no ce l'ho già un drill questo prendiamo questo e spacchiamo un po' di roba qua tipo così facciamo così 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 giusto per fare un po' di spazio anche di qua facciamo così 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 perfetto non ho neanche più spazio nell'inventario vabbè gg allora questa apertura potremmo anche allargarla ma adesso vediamo un attimo torcia allora facciamo sotto shift click vero single node perfetto allora se noi dovessimo fare il collegamento allora qua mettiamo uno due perché qua c'è la no tre due tre uno due due tre in mezzo ci mettiamo il cavo poi sopra mettiamo il geothermal generator qua mettiamo la lava e dall'altro lato mettiamo l'acqua e vediamo se effettivamente come mi han detto funziona al scusate al cento cento per cento no network effettivamente comunque il funzionamento sarebbe quello io lo voglio fare un blocco più in basso in modo da metterci del vetro sopra abbiamo del vetro dietro mi pare di ricordare di sì lo devo aver messo di là sì infatti togliamo un po' di roba che qua riempirsi di stack di cobblestone si fa in fretta e a scavare così tanto si fa davvero in fretta riempirsi di cobblestone fare così esatto così si può camminare sopra tranquilli ma c'è comunque una una fonte di energia adesso bisognerà vedere se funziona o meno però io dico che visto che il video è venuto già abbastanza lunghettino noi ci vediamo la prossima settimana con Mindtest continueremo assolutamente questo lavoro con il geothermal generator se riesco faccio entro la prossima settimana non vi prometto niente perché sono pieno di esami la la fornace elettrica e un altro po' di questi geothermal generator detto questo vi invito a lasciare un mi piace se l'episodio vi è piaciuto non volevo venire qua ma va bene lo stesso vediamo se ha caricato il piccon house poco niente forse perché era già notte però so che la world anchor funziona perché la farm di cactus all'inizio era 19 e adesso sarà di sicuro molto di più ne sono abbastanza sicuro l'asse c'è sempre lo stesso problema porca miseria 28 infatti ne abbiamo guadagnati altre 10 mettiamo questo infatti che sono 2 e gli altri sono diventati 99 più 99 quindi gg sta funzionando la grande qua è di nuovo tutto cresciuto è uno spettacolo è uno spettacolo bisogna cercare di applicarlo anche solo alla farm di alberi automatizzando quella e automatizzando anche questa con i deployer dispenser e balle varie se riuscisse a capirci un po' di più della mesicons detto questo noi ci vediamo appunto la prossima settimana vi invito a lasciare un mi piace a iscrivervi al canale se per caso non l'este già fatto mi trovate anche su facebook basta andare al link che è qui in descrizione ciao a tutti ci urmai buona giornata ciao a tutti